Il segreto. Camila è trovata in un pozzo. Anticipazioni spagnole. In questi giorni su canale 5 sta andrando in onda il riavvicinamento di Damiano al padre Ernando. Dopo la sincera confessione del ragazzo a suo padre, Ernando, scoprirà finalmente di non aver perso il suo amato figlio. L'uomo, offuscato dall'amore che prova e dalla gioia di averlo finalmente ritrovato, non riuscirà ad accettare le accuse mosse dalla Val di Salce. A Camila non resterà quindi che continuare le sue indagini per proprio conto. Il grande sospetto della cubana riguarderà il coinvolgimento del giovane anche in un altro omicidio, precedente a quello di Rogelia. Stiamo parlando del feroce assassino di Remedios uccise da Vilayas in collaborazione con un altro misterioso malvivente. Per confermare tale tesi la donna sarà costretta a recarsi nella clinica dove è stata uccisa l'anziana domestica, recando con sé una foto di Damian per il riconoscimento. La risposta sarà purtroppo positiva e Camila non avrà altra scelta che comunicare al marito l'esito delle sue indagini. Purtroppo la donna non farà mai ritorno dal suo viaggio, Damian infatti la intercetterà e getterà in un pozzo. Solo il provvidenziale soccorso di Ernando riuscirà a salvare la Val di Salce da una fine certa. Sorte altrettanto fortunata però non toccherà al bambino che porta in grembo. Di fronte a questo tragico lutto, Ernando inizierà seriamente a sospettare della colpevolezza del figlio. L'uomo deciderà quindi, con l'aiuto di Nicholas, di mettere in piedi una messinscena che permetterà di inchiodare Damian. I due fingeranno di litigare a causa delle accuse mosse dal fotografo nei confronti del ragazzo. Il vedovo Castaneda, nel confronto, dirà al dosches di avergli lasciato delle prove schiaccianti nel suo ufficio. Lo scopo è ovviamente beccare il ragazzo con le mani nel sacco. Purtroppo i timori di Ernando verranno presto confermati. Damian verrà sorpreso mentre tenta di liberarsi degli indizi sfavorevoli.